Ma c'è una particolarità che è successa stasettimana e che ti dimostra proprio anche il peso che ha l'avvento del politeismo, persone forse non è che si siano molto accorte, però se si leggeva attentamente i giornali a un certo punto viene fuori una dichiarazione di tale Sodano, sapete chi è Sodano, che è un po' micidiale e ha lasciato un po' stupefatte le persone. Più che stupefatte, alcune persone erano anche contente di quella dichiarazione. In pratica, cosa è che ha detto? Tu non ricordi quello che ha dichiarato il tuo compaesano, scuola. È un tuo compaesano, scusate. Io a proposito delle cose di scuola, siccome Scalfani la settimana scorsa sull'Espresso ci ha messo dentro, ci ha fatto questo elenco di dichiarazioni di scuola legate a Ratzinger, beh veramente io questa settimana ho messo almeno una quindicina di messaggi sul blog di Scalfani e qualcuno ha detto per fortuna, per fortuna che domani viene fuori un altro Espresso, non si parla più di laicismo, cioè in realtà i cristiani, i monoteisti sono venuti fuori a pezzi, sono stati fatti a pezzi. In realtà, vabbè, possiamo parlare di quello che ha detto scuola per il momento un attimino. Sodano dice, il terrore è anticristiano, non c'è civiltà se si esalta l'odio. Ora, detto questo della Chiesa Cattolica che ha passato la storia a bruciare le persone, mi sembra ridicolo, effettivamente ridicolo. Detto dalla Chiesa Cattolica che ha un Dio che si diverte a macellare le persone, mi sembra estremamente ridicolo. Per cui, già questo era un troppo. Però in realtà c'era un tentativo di guerra molto forte. In pratica, la Chiesa Cattolica, con questa operazione di Sodano, stava tentando di accreditarsi in funzione anti-araba. Cioè, in pratica, l'Islam fa gli attentati, ma non è che fa gli attentati per la civiltà europea o per la civiltà occidentale, o contro la civiltà, ma li fa contro la cristianità. Ed è stato un tentativo che è stato abbastanza forte. Quello è il problema grosso che si è presentato immediatamente, è che i valori dell'Europa non sono i valori del cristianesimo. E per fare questa operazione, il cristianesimo avrebbe dovuto rinunciare ai propri valori per sposare i valori europei. Matrimoni gay, aborto, liberalità, diritti delle donne e tutto il resto. E questo la Chiesa Cattolica non può assolutamente farlo. Infatti, ha fatto immediatamente marcia indietro Razzi, che ha detto, no, no, effettivamente non sono contro la cristianità. C'è un'altra cosa, perché in realtà fra Chiesa Cattolica e Islam c'è un andare a braccetto. E la parte più feroce della Chiesa Cattolica va a braccetto con la parte più feroce dell'Islam. Sì, ecco, infatti voglio ricordare un piccolo particolare che quasi nessuno ha ricordato in Italia, che è giusto ricordare. Che poche settimane fa si è tenuto un convegno nel Qatar, perciò in un paese fondamentalista, in cui erano presenti i musulmani, i cristiani e anche gli ebrei. Che è un paese islamico, che non ha relazione con l'Israele. Ma tra l'altro è venuto fuori che nel Qatar esiste uno sceico, che sostiene la grandezza di chi fa i kamikaze. E questo sceico qualcuno ha protestato perché è spesso invitato in Vaticano. Perciò, e nessuno ha ricordato questo particolare. Qualcuno ha detto, speriamo che il signor Ratzinger si ricordi che c'è anche questo sceico che è così ben visto e così ben ospitato, questo predicatore è così ben ospitato in Vaticano. Perciò come vedete non esiste una differenza tra islam e cristianesimo e cattolicesimo. Quello che ho messo in guardia già parecchie volte a questa radio, state attenti che quando vi dicono la contrapposizione tra cristianesimo e islam, in realtà della contrapposizione tra cristianesimo e islam non gli frega niente. Ciò che loro vogliono fottervi sono i diritti sociali, i diritti civili che sono stati acquisiti mediante tanto sforzo, mediante tanta fatica. Da un lato fanno la propaganda come se questi fossero una concessione del cristianesimo, dimenticando i milioni di morti che sono stati avuti per riuscire a impedire al macellaio di Sodoma e Gomorra di continuare a macellare le persone. I diritti delle donne, il diritto dell'avorto, il diritto alla società civile, il diritto all'informazione, il diritto all'istruzione, il suffragio universale. Cioè tutti quelli che oggi sono talmente scontati che ormai uno nemmeno ci pensa più, nemmeno ci bada. E in realtà questo è il vero obiettivo, cioè distruggere la società civile, non è lo scontro fra cristianesimo e islam. Cristiani e islam vanno tranquillamente d'accordo, hanno lo stesso Dio e gli stessi principi di morte. E tutti e due hanno il principio di macellare gratuitamente le persone. Principi che non sono mai stati condannati né da Ratzinger né dai suoi predecessori. Perché quando quell'azzarone criminale di Voitila ha chiesto scusa per i milioni, decine, centinaia di milioni di morti fatti dall'organizzazione criminale che è la Chiesa Cattolica, l'ha chiesto scusa, il suo Dio ha chiesto scusa per averne fatti pochi di morti. Lo so che nessuno, poche persone sanno leggere il linguaggio della Chiesa Cattolica, ma è un linguaggio truffaldino, è un linguaggio criminale e che va d'accordo con l'islam. Perché l'islam, Chiesa Cattolica e l'ebraismo sono tre forme di religiose che hanno come obiettivo la distruzione delle società civili. Questo bisogna capirlo. Sì, beh, che ci sia non solo la distruzione delle società civili, ma che ci sia la distruzione culturale o la distruzione delle radici che hanno portato alla liberazione dell'Europa dal cristianesimo, è un dato che anche in ambiti intellettuali è riconosciuto. Infatti, io ricordavo all'inizio, proprio perché ha avuto parecchio clamore in alcuni campi, la dichiarazione che il tuo compaesano Scola di Venezia ha fatto sulla necessità che i laici rinunciano a essere laici e che devono adeguarsi alla volontà della Chiesa. E ha detto che appunto, cadendo le utopie, ha detto Scola, il tuo compaesano di Venezia, ha detto che appunto dovrebbero adeguarsi alla volontà della Chiesa. Su questo ha risposto correttamente con degli spunti anche interessanti. Emanuele Severino. Emanuele Severino ha scritto un articolo che si chiama Chiesa e Islam alleati contro la tecnica. E quando si parla di tecnica, non intendiamo una tecnica concreta, ma si intende quella concezione dell'uomo in cui tramite la volontà, le mani dell'uomo, si può costruire qualcosa che permetta di migliorare la vita. E ora, rispondendo a Scola che diceva che bisogna uscire dal concetto di laicità, dice Severino, un laico potrebbe chiedersi perché non esista anche un'immagine vecchia della religione cristiana. Dalla quale si deve uscire in forza di questi stessi fatti, cioè il crollo delle utopie. Perché se crollo sono le utopie dei laici, non le utopie dei cristiani. Ma perché se la prendeva tanto Scola? Perché Scola se la prendeva con un filosofo contemporaneo che diceva che per giustificarsi una democrazia costituzionale non ha bisogno di un presupposto etico e religioso. E questo a Scola è una cosa che l'ha irritato molto, che veramente l'ha fatto scatenare. E logicamente questo è il principio che Scola ha attaccato, che non rientra nella sua possibilità culturale dell'ammettere che una forza politica, che una visione politica, che una società possa scegliere all'interno della stessa società i valori, i principi, i riferimenti, ma che per forza di cosa deve prendere un principio trascendentale. Ed è questo che vuole attaccare Scola. Ma la cosa più significativa che Severino dice, che ha fatto questa affermazione a Avermas, dice Avermas la enuncia, questa teoria in cui dice, giusta, che la società, la democrazia non hanno bisogno di un riferimento etico e religioso, ma che lo trovano in sé stesse, dice Avermas la enuncia, anzi di sfuggita come cosa ovvia, scontata, sulla quale non valga la pena di soffermarsi. Come mai? Perché egli ha alle sue spalle due secoli di filosofia che sempre più perenturamente ha mostrato l'impossibilità di ogni presupposto etico e religioso, cioè l'impossibilità di un'etica, di una religione, che pretendono di possedere della verità assoluta. Non credo che Avermas e molti che hanno fatto come lui faccia bene a dare per scontato il duro lavoro della filosofia negli ultimi due secoli. In questo modo la potenza di quel lavoro viene lasciata in cantina ad arrugginire. Cioè, lui disse, se noi siamo libri, se noi adesso siamo diversi, è perché negli ultimi due anni la filosofia ha dovuto demolire completamente... Negli ultimi due secoli. Negli ultimi due secoli, scusate, ha dovuto demolire completamente il discorso cristiano di un principio superiore. Dice sempre Severino La filosofia è, da ultima, responsabile dell'intera storia dell'Occidente. Ma proprio per questa responsabilità non si può pensare che la filosofia degli ultimi due secoli sia una bazzecola dalla quale ci si può liberamente e agevolmente liberare. E questo dice proprio perché il concetto di laicità è quanto mai ambiguo e non è per niente ambigua nella sua essenza più profonda la potenza con cui la filosofia nel nostro tempo ha mostrato l'impossibilità di ogni verità assoluta, di ogni Dio, di ogni fondamento che pretende di sottrarsi al divenire del mondo. Cioè, come dice Severino, che è una delle maggiori filosofi Se esiste una filosofia, dice chiaramente non può sottrarsi al divenire del mondo. Penso che per noi è scontata... Sì, appunto. Cioè, in effetti, chi ascolta le nostre trasmissioni ormai da anni molte cose le dà per scontate perché certi libri, quando li leggiamo, ci appaiono vecchi. Proprio perché quei libri sono a fondamento di quello che stiamo dicendo cioè, le persone dicendo delle cose vanno sempre continuamente a superare ma il fatto che le cose vengono superate non è che le cose siano cancellate è che le cose vengono dette meglio cioè, si cerca sempre modi migliori per far comprendere le cose e anche punti di vista diversi con cui rendere dialettiche le cose però le cose non sono superate ciò che fu l'illuminismo non è superato ciò che fu il romanticismo ciò che fu le teorie della liberazione ciò che fu il risorgimento certo, sono superate storicamente, culturalmente perché le cose vanno avanti in continuazione ma non sono cose superate in se stesse sono a fondamento di ciò che oggi è il nostro pensiero la nostra libertà cioè, quando noi abbiamo la nascita di una Costituzione italiana e quella Costituzione italiana è fatta da tutta una serie di personaggi che hanno vissuto in un musso culturale buoni o cattivi che fossero stupidi o intelligenti come li vogliamo considerare un po' a seconda anche dell'opinione politica che ne abbiamo ma questi personaggi che hanno fatto questa Costituzione si sono fatti un gran mazzo perché ricordo che ci fu per esempio anche l'idea di mettere Dio nella Costituzione italiana e ci fu un grosso dibattito e si preferì non metterlo proprio perché aveva anche altre implicazioni però fu discussa la cosa per cui noi viviamo in un humus culturale che ci porta sempre avanti e quello che è stato il dibattito filosofico il dibattito sociale, il dibattito politico in realtà ci ha portato ad essere ciò che siamo ma non perché c'era il cristianesimo è stato fatto proprio contro il cristianesimo mentre il cristianesimo vuole i campi di sterminio vuole il massacro delle persone vuole il genocidio vuole l'odio sociale vuole il razzismo vuole tutte le cose peggiori che ha un sistema sociale la società ha combattuto ferocemente proprio per venire fuori da questo orrore e non possiamo ignorare tutto questo si ma il stesso Severino dice chiaramente che il cristianesimo è finito perché scuola partiva dal presupposto che le grandi utopie sono crollate e di conseguenza i laici non potevano avere nessun riferimento gli risponde Severino dice che la caduta delle utopie è appunto la caduta della convenzione che esiste una verità assoluta che l'alimenti e se l'assolutismo dello stato etico è un'espressione della filosofia del passato non si vede perché il cristianesimo e il suo fondamento filosofico non siano a loro volta una delle più grandiosi di queste utopie cioè se le grandi utopie sono crollate per scuola il cristianesimo è una delle utopie ed è crollata sì ma il problema del cristianesimo è che il pazzo di Nazareth doveva venire in quella generazione sulle nubi con grande potenza mentre le stelle cadevano sulla terra e in quella generazione non è arrivato cioè quell'utopia idiota del desiderio della fine del mondo non si è avverrata e come non si è avverrata quello non si è avverrata tutto il resto che ne è conseguito cioè tutto il resto che si è sviluppato quindi chiaramente il cristianesimo è un'utopia folle è la speranza di un padrone buono che ti porti sulla via del benessere e come dicevano i contadini veneti se le montagne fossero deponenti ai mari del toccio ma questa è l'utopia che il cristianesimo imponeva sulle persone deboli non dimentichiamocelo cioè la fame che il cristianesimo ha imposto sugli uomini la storia non l'aveva mai visto prima la miseria che impone il cristianesimo c'è proprio controllare le persone mediante la fame mediante il bisogno del sesso mediante i bisogni elementari storicamente non è mai avvenuto storicamente Dottorio De Tienco con cui siamo partiti ha detto chiaramente che è stato soltanto un incidente ma l'unico incidente è la storia dell'uomo quando abbiamo cominciato queste traduzioni abbiamo detto che il cristianesimo è un buco nero nella storia dell'umanità cioè in miliardi di anni di storia dell'umanità c'è un buco nero di un paio di migliaia di anni che è il cristianesimo e non ha portato niente all'umanità se no i campi di straminio e le guerre per imporre il suo Dio non ha portato altro e l'odio con cui il personale ha tentato di uscirne chi altro? Sì, ma di fatto non ha portato niente di fatto il punto che dice chiaramente che gli europei e noi occidentali dovremmo cominciare a capire che abbiamo il diritto e che questo diritto ci appartiene di negare questa valenza superiore o questa pretesa del cristianesimo di considerarsi degno di ogni riferimento cioè se il cristianesimo è un'utopia che pretende di imporsi sulle altre noi come uomini che hanno riconosciuto la morte del Dio del Dio cristiano del Dio delle religioni cristiane monoteiste dobbiamo ricordarci che è il nostro diritto rivendicare la completa libertà e lo svicolo completo da ogni sottomissione alla visione cristiana ed è quello che noi dobbiamo fare dobbiamo ricordarci questo e come ricorda lui cioè se la filosofia in ultimi due secoli ha commosso per questo non è che la lotta sia finita la lotta continua anche in questo momento certo il monoteismo è verso la fine è verso l'annientamento ma ci farà di tutto per cercare di mantenere la presa di mantenere il condizionamento e perciò esiste ancora una situazione in cui bisogna lottare in cui bisogna combattere per tenersi liberi sì il problema è il problema della filosofia è il problema anche dello stato laico o della laicità diciamo così della società è che perde di vista quello che è il nesso principale del cristianesimo cioè è che il cristianesimo continua a manipolare mentalmente i bambini continua a fare il lavaggio del cervello sui bambini praticamente anche se una società civile è razionalmente cosciente che il cristianesimo è superato che il cristianesimo non ha nessun valore né etico né morale continuano a delegare al cristianesimo la possibilità di continuare a manipolare mentalmente i ragazzini e questa è una vergogna infame cioè e questo è la drammaticità cioè ancora cioè dal punto di vista filosofico dal punto di vista culturale si è comprese alcune cose no? però dal punto di vista della struttura educazionale del divenire della società la fondazione del futuro ancora non si è percepito non si è messa all'ordine del giorno come problema cioè solo i pagani non hanno messo all'ordine del giorno e basta sì ma tu ne sai la volontà è sempre quella del dominio del controllo della sottomissione della paura della rinuncia e questo è proprio è un qualcosa che viene imposto sempre prima come militarmente prima con la violenza poi con violenze fisiche poi con violenze psicologiche poi con stratificazioni di cose ed è enorme il lavoro che viene fatto proprio per pianificare questo per cancellare qualsiasi resistenza culturale o anche individuale alla foglia del monoteismo tra tonde chi si pensa profeta chi si pensa salvatore avrà sempre questa violenza insita nel stesso senso fatto di pensare di essere profeta di qualcosa di tentore di una verità assoluta il pericolo è il dire che esiste una verità assoluta a cui qualcuno si deve uniformare infatti Severino lo disse chiaramente l'allarme verso chi dice che se esiste una verità assoluta è superiore a cui noi ci dovremmo adeguare per fare un esempio di come viene saccheggiata anche l'Africa ad opera dei missionari io ho qui una notizia stampa che viene dal Kenya e dice vescovo ucciso arrestati due sacerdoti la polizia ferma due sacerdoti della comunità borana avevano rifiutato l'ingrezza a scuola di ragazzi di altre tribù in pratica questa gente guarda cos'è che sta facendo sta seminando l'odio raziale di tribù contro tribù sta facendo lo stesso giochino sporco che ha fatto Voitila per quanto riguarda il massacro del Rwanda il Burundi cioè praticamente ha fatto sempre alimentato quello che era gli scontri quello che è stato l'odio raziale e ha dato dimensione e spessore all'odio raziale affinché le persone si macellino e quando le persone si macellino li macellano in una situazione del genere perdono ciò che per loro è prezioso cioè le loro tradizioni e la loro cultura e quando una popolazione perde la loro la sua tradizione la sua cultura ti arriva il pazzo di Nazareth e tutti i suoi servi a portarti la tradizione cattolica ed importi la tradizione cattolica perché la società si è indebolita e questo è il razzismo dei missionari finché questa banda di criminali assassini i vigliachi i vermi che sono i missionari cattolici i missionari cristiani in genere non viene fermata sarà difficile anche per l'Africa costruire delle proprie tradizioni su cui andare a costruire il futuro proprio perché questi missionari vanno ad uccidere le tradizioni tanto non è il loro pazzo profeta il padrone delle tradizioni lui guarisce il cieco di sabato che è proibito dunque lui è padrone delle tradizioni che buono che ha guarito il cieco di sabato venendo meno alle tradizioni sì e ha fatto due miliardi di morti per distruggere le tradizioni di ogni popolo rifletteteci bene sì ecco diciamo sembra quasi una coincidenza il fatto appunto che tu dici che i missionari ma non solo i missionari cioè tutta la chiesa tutti i cristiani sono sempre concentrati nella cancellazione di ogni identità culturale fratellità vuole che proprio in questi giorni è uscito un libro che era dal 1200 che non è mai stato pubblicato in italiano scritto nel 1200 che è la cronaca con cui i cristiani hanno attaccato la Livonia la Livonia sarebbero alcuni paesi baltici appunto le crociate esatto le crociate allora esiste si chiama cronica Livoniae ed è stata pubblicata per la prima volta in italiano c'erano degli estratti su un libro di storia che li avevo usati comunque l'hanno pubblicato per la prima volta ed è anche una coincidenza che finalmente dopo 1200 cioè dal 1200 in poi qualcuno lo pubblica in italiano ma pensate i piccoli tranelli una volta che uno crea la fede la convinzione nell'opera dei miracoli in certi luoghi santi e così via dice così per favorire la fusione di pellegrini e di pellegrini si potranno chiamare nel voce di pochissimo tempo crociati a tutti gli effetti assimila in un primo momento il viaggio in Ivonia a quello verso Roma poi con una letra ai fedeli di Sassone e di Vesfalia del 5 ottobre del 1199 lui equipara addirittura a Gerusalemme proprio perché anche la presenza di un cristiano in quei luoghi serviva a cristianizzare a sconvolgere il paese e dice nel suo stile scarno e irto Enrico parla di razzie dicono delle vendette ti vesco i felici allorché viene loro mostrata la testa mostrata del nemico tra pagani dipinti come perfidi idolatri la prosa del religioso incide con la medesima forza con cui la croce avanza in queste terre portata da uomini che sono certe la vittoria e che stanno espugnando in nome della vera fede l'ultima regione pagana d'Europa ma soprattutto si incontra in queste pagine una violenza primitiva che l'autore non sempre riesce a far ricadere sui cattivi e i cattivi chiedono se non i pagani e come si dimostra la metodologia è sempre quella quella della predicazione di non si va in un paese perché lo si vuole conoscere lo si va perché bisogna portare la fede perché bisogna portare la salvezza e anche il semplice viandante che va in realtà è un crociato è un missionario che cerca di imporre qualcosa stiamo parlando appunto del 1199 Claudio ha ricordato un fatto che fra sacerdoti si sono uccisi in Kenya nel 2005 ma voglio ricordare che pochi anni non so se sia un vescovo che è stato ucciso dai preti ma sta di fatto che nell'inchiesta sta venendo fuori delle cose abbastanza sporche fra preti cattolici e Ruanda il Burundi non sono di secoli fa no no sono stati processati i vescovi e sono stati processati i preti è vero che un vescovo della capitale della Ruanda è stato assolto però è altrettanto vero che le accuse che sono state mosse contro di lui erano fatti reali e un fatto reale è una fattura pagata dalla Caritas di 8000 macete che sono stati usati per massacrarsi fate voi 8000 macete usati per massacrare comperati dalla Caritas e voi date i soldi alla Caritas e voglio ricordare che qui beh a parte che sarebbe anche da parlare delle decine di organizzazioni caritatevoli che sono state processate cancellate non so se lo sai purtroppo se ne occupa il fisco e non i giornali ma decine di associazioni italiane di quelle caritatevoli sono state cancellate dai registi dagli elenchi perché non corrispondevano assolutamente alla loro finalità e alla loro natura addirittura grosse associazioni sono sotto inchiesta per irregolarità varie e queste notizie non escono sui grandi quotidiani sono state sulle 24 ore perché interessandosi di notizie che hanno a che fare con il fisco diceva il ministero l'agenzia dell'entrata ha cominciato a cancellare varie decine di organizzazioni perché si dichiarano non lucrativi di unità sociale aiutano il terzo mondo in realtà ci sono delle cose che non quadrano altre considerazioni più importanti più gravi sono sotto inchiesta perciò sappiatevi anche regolare ma io volevo dare anche una cosa che dimostra visto che stiamo parlando di missionari della capacità con cui quel metodo la precisione la costanza con cui si fa il lavoro di cancellazione di interi popoli è uscito appunto col Corriere della Sera l'inserto c'è un libro che parla degli antichi maia ed ha delle date che sono abbattie significative dice che appunto la conquista dei popoli maia cominciò nel 1620 ma i maia hanno resistito in armi fino al 1697 e ricorda che anche nel 1761 ci fu una rivolta noi cosa abbiamo nella nostra storia chi che l'hanno scritto i cristiani che questi popoli sono scomparsi in realtà dal 1520 al 1761 ci sono stati dei popoli di cui non si ricorda niente che hanno lottato per mantenere la loro identità e la loro cultura in Messico ci sono state molte rivolte degli indiani prima di essere fatti fuori del tutto c'erano massacrati decine di milioni credo avevano massacrato 60-70 milioni di persone sto parlando solo in breve periodo non nell'arco completo ma quando queste popolazioni per rabbia per disperazione perché si combattevano hanno fatto fuori un missionario uno di fronte ai milioni di maia di incs di aztechi di sudamericani cancellati questo missionario è diventato un santo un eroe un propagandolo della fede e una persona che andava incoraggiata l'altro è niente è un numero è una bestia viene inientato come persona come individuo cioè noi siamo i padroni gli altri sono bestie bestie che devono obbedire bestie rabbiose che si ribellano a noi noi che siamo i rappresentanti del Dio padrone interno cioè praticamente si toglie il carattere di essere umani nelle persone infatti il cristianismo è razzismo proprio per quello perché toglie proprio il carattere di personalità di individuo alle persone cioè nega le persone di essere degli individui l'unico individuo è il Dio padrone e giù nella gerarchia chi lo rappresenta gli altri non sono individui sono le pecore del grece o dice Giusulio di Nazareth le pecore sono mie riconoscono il buon pastore i ladri saltano le palizzate il buon pastore entra dalla porta il guardiano li apre le pecore lo riconoscono ma non sono persone sono pecore cioè vengono depersonalizzati i soggetti perché l'unico soggetto che ha dignità di individuo è il Dio padrone il patto di Nazareth subito dopo ma tutti gli altri tutti i fedeli cristiani non sono persone ma pecore del grege tant'è che venendo fuori da quello che è l'orrore cristiano si è parlato fino all'altro giorno di popolo e ancora adesso si usa il termine popolo che cos'è il termine popolo se non una mutuazione del termine grece del termine massa del termine non individui cioè non insieme di individui è esattamente l'opposto del termine di cittadini di civis perché i cittadini sono individui portatori di diritti il popolo è massa che non è portatrice di diritti il popolo cristiano è massa il popolo romano è un'altra cosa il termine popolo usato qualificato come cristiano adesso dovrebbe fare un'analisi però in effetti dal punto di vista dell'uso dei termini questa è la condizione dopo se qualcuno vuole fare un'analisi semantica dove viene fuori i termini eccetera l'uso come fa storicamente è un altro discorso però oggi come oggi quello è l'uso emotivo del termine ha acquistato una valenza negativa proprio perché si è attaccato la valenza cristiana è che ancora oggi nella nostra società civile pur essendo le persone portatrici di diritti costituzionali vengono decostituzionalizzate cioè vengono private e fatte credere che devono essere obbedienti alla gerarchia cioè viene fatta credere le persone che devono essere obbedienti alla gerarchia in quanto gerarchia non in quanto funzione sociale e questo è di una gravità immane cioè fa parte di quel lavaggio del cervello che i cattolici mettono in atto le persone cioè qual è il cattolico che andrebbe a dire al suo Dio tu devi pagare per il delitto di diluvio universale hai macellato tu devi pagarla cioè tu devi essere processato cazzo cioè capisci che è una cosa per un cristiano inconcepibile sì ma il fatto stesso cristiano pensa sempre che il Dio abbia il diritto alla violenza e che la prassi normale di rapporti sia la violenza proprio perché la mentalità cristiana è sempre legata a questo cioè il predicatore cristiano il criminale Gesù Cristo mai esistito ma come finora criminale inventata in un pessimo film dell'orrore e un pessimo libro giallo criminale che è come la Bibbia la caratteristica è sempre quella è sempre col dito puntato se voi non vi pentirete se voi non farete questo cioè è sempre pronto a chiedere agli altri di adeguarsi c'è una qualche forma etica qualche forma morale soprattutto quella del pentimento soprattutto del rinunciare alla loro anima alla loro essenza cioè il fatto stesso è quando la famosa frase dice io vi farò pescatori di uomini vabbè pescatori di uomini significa che tu vai in qualcosa peschi lo fai prigioniero lo uccidi e te lo mangi questo è già dare un comportamento perché non si dice io vi farò cacciatori no si fa pescatori perché devi fare proprio la gran massa cioè devi fare la trappola d'altronde non c'è neanche nessuna astuzia ma non c'è un salto diverso di qualità c'è sempre il bisogno di condannare qualcuno quando la famosa scena che non è mai esistita però che da indice di una certa natura entra nel tempio usa la frusta per scacciare le persone ma vedi questo è il rischio per appropriarsi del tempio cioè il tempio è roba mia non è un centro sociale che le persone utilizzano è roba mia è di una gravità immane si ma usa l'aggressione usa una violenza non spiega neanche perché perché dice perché mi appartiene cioè va bene ma cosa significa che ti appartiene però un'altra cosa le persone ciò che loro non sanno era che i tempi antichi erano dei centri sociali erano dei centri di attività sociale cioè non era il tempio il tempio di Giunone le persone vanno a pregare Giunone si facevano le cerimonie a parte il fatto che li facevano sempre fuori dal tempio o davanti al tempio e mai dentro perché dentro era stretto ma dentro al tempio di Giunone a Roma si batteva la moneta c'era la zecca dello Stato dentro al tempio di Cerere c'erano gli incartamenti della plebe cioè c'erano gli incartamenti le proprietà i stati civili di tutta la plebe cioè i tempi erano dei centri della vita civile della vita sociale non erano il tempio per andare a pregare come si usa adesso cioè era un tempio vissuto cioè la gente dice tempio di Vesta le donne andavano ad accendere il fuoco quando si spegneva il fuoco andavano al tempio di Vesta a prendere il fuoco cioè il fuoco che era sempre acceso campiamo questo vuole cacciare via la gente dall'uso di un tempio per dire è roba mia di una vigliaccata immensa infame incredibile sì no nessun problema cioè per dare una dimostrazione di qual è questa violenza di questo metodo di questo impegno voglio ricordare dare una dimostrazione concreta si usa spesso e si inflaziona il termine solidarietà cioè nel senso che il termine solidarietà è un termine che è importante che è giusto ricordare però logicamente solidarietà cosa significa solidarietà significa che esiste un rapporto di equilibrio in cui io faccio qualcosa per mia volontà per libera scelta e non chiedo di essere contraccambiato invece per cristiani solidarietà intendo un'altra cosa perché faccio questa premessa perché è successo un fatto molto particolare noi diciamo sempre che i cristiani amano i poveri amano i disagiati e di curare la loro situazione non li piace cosa è successo a Vicenza nel 2005 proprio in questi mesi non è successo in un paese chissà dove è successo che qualcuno propone un registro particolare per le copie di fatto e non solo interviene la curia io leggo la notizia così dopo la possiamo anche commentare meglio dal Corriere del Vento del 19 luglio il progetto proposto dalle opposizioni avvaluta dal sindaco e quindi congelato dopo la presa di posizione della curia il registro delle copie di fatto è stato definitivamente affossato in commissione per l'opposizione di tutti quanti i partiti del governo la proposta riguardava non solo le unioni gay ma anche le convivenze fra anziane e fra persone intenzionati ad assistere economicamente cioè qualcuno propone in consiglio comunale e il sindaco ad accordo fa facciamo un registro in cui formalmente legalmente qualcuno che vuole assistersi in maniera economica e sappiamo se noi stiamo a sentire i giornali e le televisioni esiste la povertà se due persone si vogliono assistere in maniera economica vanno ringraziate li va riconosciuta questa capacità non chiedono nulla in cambio e allora il sindaco dice cerchiamo di aiutare queste copie di fatto creiamo un registro d'attronde il comune dovrebbe essere dei cittadini se esiste un'amministrazione comunale è fatta non certo per qualcosa ma dice allora se esistono convivenze fra anziane e fra persone intenzionate di assistere in maniera economica non si parla di sessualità di perversità non si usano le parole di pera tanto per dire ma dice delle persone che hanno questa volontà che si vogliono aiutare che sono anche anziane che hanno un bisogno economico e fra loro due stabiliscono senza che nessuno li imponga di assistere in maniera economica senza fare la carità ma perché fanno una russetta bene facciamo un registro in cui noi cerchiamo di tutelarli di venire incontro questo non è possibile farlo perché di fronte a questa proposta scontata banalissima il sindaco il sindaco effettivo di Vicenza che è il vescovo Nosiglia dice fa la chiesa non è d'accordo vedi Francesco è che manca memoria storica se qualcuno ricorda un tale Jan Haas venne processato per le tesi di Wirkleff relative alla sua interpretazione del cristianesimo una di queste tesi di Wirkleff che Jan Haas si rifiutò di abbiurare fu quella che Wirkleff riteneva corretto ed umano che ci fossero dei matrimoni fra anziani per sostenersi a vicenda Wirkleff sosteneva contro la chiesa cattolica che il matrimonio era un mutuo appoggio fra le persone e non era necessariamente il sacramento per fare figli e fare figli a Dio come sostiene la chiesa cattolica ora Jan Haas è stato preso e bruciato in maniera infame squallida scorretta oltretutto una cosa veramente abbietta per cui quando la chiesa cattolica ti brucia vive le persone per impedire che le persone si sostengano a vicenda cosa vuoi pretendere da un vescovo di Vicenza che fa dell'omicidio l'unica sua ragione di esistenza perché fa dell'omicidio l'unica sua ragione di esistenza è un cristiano dunque un assassino cioè il problema è che noi tendiamo sempre a disolare quello che è la teoria che viene propagata dalle persone cioè la loro ideologia e dalla loro azione quando fa comodo quando non fa comodo vogliamo accusare gli altri allora le due cose le uniamo però l'unico problema è che noi abbiamo un sistema giuridico che non permette a dei soggetti di sottrarsi dalla legge cioè non esistono dei soggetti diversi dalla legge e il vescovo di Vicenza è un criminale assassino andrebbe processato i magistrati si rifiutano di farlo i magistrati sono responsabili per la loro azione sì no ma infatti questo qua è abbastanza grave proprio perché qua era il caso giustamente tenendo conto che non era neanche obbligatorio cioè nel senso che se uno si voleva uno poteva anche non iscriversi al registro scusa ma perché il sindaco perché il sindaco effettivo di Vicenza cioè il vescovo Nosiglia fa questo proprio perché sai se uno è in povertà se tu lo aiuti senza chiedergli cosa la sottomissione alla chiesa cattolica e il disagio di andare a chiedere la carità e sai i poveri li avrete sempre con voi d'altronde Nosiglia fa questo non perché è un cattivo prete ma perché è un bravo cristiano perché ha bisogno di poveri perché ha bisogno che i poveri aumentano ha bisogno della miseria morale fisica ha bisogno di stuprare bambini costringendo i ginocchi davanti al macellare Sodoma e Gomorra e questo è grave cioè in effetti quello che divide noi pagani politeisti dai laici è proprio la consapevolezza della costruzione del futuro della società cioè mentre i laici fotografano la situazione presente noi invece vediamo le dinamiche sia del passato che ha portato al presente sia l'azione del presente per costruire il futuro è questo che ci rende superiori ai laici ma non è colpa di laici i laici sono dei cristiani mancati è un dato di fatto il problema è sempre quello che alla fine anche il laico come diceva Papini l'antiglericale alla fine crede in Dio ed è questa la debolezza insomma cioè del pensare di un Dio buono perché sicuramente molti cattolici se la prenderanno con nosiglia ma non diranno ma nosiglia ha fatto così non perché lui lo voleva ma perché si dichiara cristiano si dichiara la sequenza di Cristo si dichiara testimone di Cristo ed è vescovo di Cristo e se Cristo è violenza lui deve accettare i principi cristiani di Cristo violento e d'altronde se Cristo gli dice che i poveri li avrete sempre con voi se qualcuno vuole far sparire i poveri è veramente un anticristiano è stato condannato un anno e quattro mesi Don Cesare Lo Deserto l'ex direttore del centro di accoglienza Regina Pacis di San Foca dopo sei lunghe ore di Camera di Consiglio il giudice Annalisa De Beneditis lo ha ritenuto colpevo dei maltrattamenti ai danni di un gruppo di magrebini che tentarono la fuga dal centro la notte fra il 21 e il 22 novembre Lo Deserto è ancora coinvolto in tutta una serie di altre inchieste vi ricordo che sto prete Lo Deserto è stato già condannato per aver mandato dei falsi a se stesso dei falsi sms in cui si veniva minacciato e già per questo era stato condannato è già sotto inchiesta per maltrattamenti a delle donne ed è sotto inchiesta per diffamazione nei confronti di un medico e di un carabiniere che voleva far accusare delle donne di averle violentate no, da delle donne da una donna in particolare che aveva una relazione sentimentale con questa persona che lui riportava la relazione sentimentale dannosa per la sua rieducazione questo è un prete questo è un prete tutti i preti sono così se non peggio di così tanto per essere chiarissimi invece gli auguri li facciamo a un altro prete a un altro prete gli facciamo tutti gli auguri possibili immaginabili prete è travolto dalla passione e abbandona la tonaca per scappare con la parocchiana non è una storia di quelle che si vedono in televisione ma questo è successo davvero nel quartiere Zenga alla periferia di Palermo Massimo Cerilli un paroco di 34 anni ha chiesto ai superiori dispensi al ministero perché ormai non riusciva più a nascondere la sua passione per una ragazza del quartiere i due avevano provato in tutti i modi a negare i sentimenti reciproci la donna aveva anche cercato di farsi suora meglio che siano fuggiti insieme meglio un po' di goduria che non un po' di orrore poi c'è un altro discorso a Milano mago arrestato per truffa e qui ne abbiamo sempre un pochettini di personaggi di questo genere e questo personaggio vediamo un attimino aveva fondato la libera facoltà di scienze antiche per lo studio dell'osetterismo dell'astrologia e dell'occultismo ente non a fini di lucro vorrei capirla un po' cosa vuol dire ente a fini di lucro Francesco questa roba qua ente non a fini di lucro forse si ente non a fini di lucro di cui l'uomo era presidente ed unico docente chi si iscriveva doveva adottare le regole di vita imposte dal maestro assumere psicofarmaci più volte al giorno pagare materiale didattico e singole lezioni fare donazioni per guadagnare prestigio nella comunità questo naturalmente era un altro illuminato dal dio padrone come altri illuminati dal dio padrone ne abbiamo in un articolo abbastanza demenziale fatto da ormai una giornalista che si presta a queste cose sul gazzettino tale Antonella Federici a Oderzo i trevigiani scomparsi e qui c'è un articolo abbastanza idiota che ha scritto del 22 luglio 2005 dove praticamente i soliti articoli commissionati da Gentaglia tipo Ares tipo Cristi tipo Cis in cui si accusano delle persone di fare esattamente ciò che fanno i cattolici né più né meno ora a Oderzo i trevigiani scomparsi vi ricordo che i trevigiani scomparsi sarebbero da gente di 30 35 anni che ha deciso di vivere la loro vita buono o cattivo che sia la loro decisione è comunque una loro decisione se qualcosa non va nella decisione penso che gli unici che devono occuparsi sia la polizia di Stato e non certo articoli demenziali commissionati dall'Ares a gente come la Laura Simeoni se non vado errato su nel trevigiano oppure Antonella Federici o altri giornalisti che si prestano a queste operazioni sporche squallide insomma anche perché se fosse vero metà di questo articolo questa gente sarebbe già in galera tanto per se meno male il sequestro di persona è un reato in questo paese ci dovrebbe esserlo casa mia dopo ognuno che la mese dovrebbe esserlo può essere logicamente se poi arriviamo a operazioni demenziali tipo sta dicendo che vediamo a Rams de Chateau il luogo dove Cristo e la Maddalena secondo il romanzo Don Brown il codice da Vinci avrebbe avuto figli che avrebbero dominato sulla Francia il sangue reale che diventa il sacro graio costruito dai templari secondo il libro che riabilita anche Barabba una corretta traduzione del Vangelo farebbe pensare che Barabba non sia stato un assassino che entrambi gli uomini o quello sta dicendo Stantonella Federici cioè lei sa tutto questa roba qua entrambi gli uomini da mettere in croce fossero Barabba cioè Barabba figlio di Dio ma non sarebbero stati certo gli ebrei a mandarlo a morte ma i romani e così avanti a tutto questo si dedicherebbero le giornate nella casa di Oderzo e perché la sacerdotessa possa farlo i maschi giovani e sani lavorano e portano a lei guadagni e regali se in questo caso ci sia o meno una truffa dovrà decidere la magistratura veramente lo hai già affermato tu che è una truffa cioè non è che lo rimandi alla magistratura sei tu che lo dici cioè la magistratura ha poco da indagare tu lo affermi sarebbe da indagare loro se lo fanno è solo su denuncia visto che sono reati che si procede per denuncia e nei tuoi confronti per creato dell'arma sociale sì beh sai abbiamo assistito con la gatto trochi che ha impegnato tutta la sua vita nel cercare di dimostrare che altri erano dei mostri è più difficile che Santonella Federici si suicida che non la gatto trochi è più facile che si suicidi la gatto trochi beh insomma dai c'è sempre la provvidenza no beh questo è tutto sommato una poveraccia è una battuta è sempre la provvidenza sono cristiani che hanno la provvidenza noi pagani non ce l'abbiamo la provvidenza insomma beh dai sai d'altronde il problema è sempre questo che fanno articoli scandalistici quando ignorano completamente delle cose perché tu hai ricordato appunto di un prete che scappa dalla parrocchia con la parrocchiana e io vorrei ricordare appunto una notizia del 6 luglio a Cuneo arrestato un prete gelati per adescare e agli arresti domiciliari con la cura di prostituzione favoreggiamento e assolutamente dei minori le indagini che coinvolgono altre due persone sono scatte dopo alcune segnalazioni anorme arrivate in questura di Cuneo e l'ho scaricato anche da internet i minorenni tra i 13-17 anni sono venivano adescati con dolci e gelati su che giornale hai trovato la notizia tu? Corriere della sera eh io purtroppo non è Corriere della sera ho dovuto scaricarmi da internet sì però vedete c'è una cosa del genere rispetto a quella notizia che non esiste cioè non ha sai come quantità di spazio su un fado del niente si lanciano allarmi si spaventa però questa notizia è un piccolo trafiletto vabbè ringraziamo quella della sera che l'ha pubblicata però appunto è già significativo che sul nulla si costruiscono delle campagne noi ormai non ci stupiamo più di cosa si presta il gazzettino cioè il gazzettino ha sì la dignità anche di cioè la dignità di articoli di articoli di articoli nazionali anche abbastanza seri però si presta molto operazioni locali proprio in mano a gentaglia a gentaglia tipo Alice Chris non dimentichiamoci gli articoli pubblicati di Maurizio Antonello roba veramente da galera ma da galera per il direttore del gazzettino effettivamente di un'infamia incredibile se Antonello si è suicidato però anche il direttore del gazzettino non è che abbia avuto poca responsabilità in questo proprio per averne alimentato le aspettative perché pubblicando gli articoli di un demente come Maurizio Antonello in realtà il gazzettino ha inserito delle aspettative di Maurizio Antonello nei risultati in quello che diceva quando Maurizio Antonello si è accordo che stava dicendo stronzate su stronzate stronzate e allora si è suicidato grazie anche al direttore del gazzettino cioè grazie a quei direttori che hanno pubblicato le sue demenzialità non sono neanche riusciti a ridargli il muso dimmi un po' se è un comportamento accettabile questo sì io voglio invece partire dalla dimostrazione di come in realtà tutte queste notizie così confezionate sono in realtà un tentativo di accreditare una regione come quella monoteistica che è totalmente inventata noi stiamo assistendo che man mano che passano il tempo e scopriamo che quelli che erano dei selvaggi i primitivi erano in realtà popoli organizzati che erano gente capace erano popolazioni in gamba e una notizia che stranamente ho visto scomparire dai giornali scomparire da qualsiasi cosa in cui ci sono pochissimi riferimenti è quella di un'improvvisa scoperta di una popolazione di un popolo di una civiltà europea che risale a 7 mila anni fa ma questi 7 mila anni fa questa popolazione non era una popolazione di selvaggi con l'osso con l'anello al naso come si dipingono i primitivi era una popolazione che era capace di creare in una piccola zona 150 templi e dice 2 milioni prima degli egizi un grande comunità nel cuore dell'Europa durata appena 200 anni vabbè sul tempo della durata ci possiamo sempre discutere e contrastare la cosa ma dicono che appunto questa qua è una delle civiltà più antiche d'Europa ed è stata scoperta solo di recente ed ha impressionato tutto quanto al mondo scientifico dell'archeologia proprio per la capacità enorme di costruire grandi templi eppure è una scoperta che è fatta solo adesso ma è una scoperta che dimostra anche un'altra cosa come in realtà e a stupito tutti è la quantità dei ritrovamenti l'enorme quantità dei ritrovamenti perché significa che in un periodo così antico non soltanto in Egitto ma anche in Europa ci siano comunità capaci di essere organizzate capaci di creare società di creare cultura di creare spazi e soprattutto ci testimoniano dell'intesa raggiunta della cultura del fatto elevato eppure queste popolazioni con questa potenza così enorme per quei tempi non hanno avuto bisogno di lanciare di missionari di evangelizzare il mondo di portare la verità di andare a dire noi siamo il metto da un Dio erano consci che la potenza della loro capacità della loro abilità li veniva dal fatto di essere legati all'ambiente e dalla capacità di sapere usare il loro intelletto la loro anima e l'energia del loro popolo ma non avendo un riferimento del bene e del male della verità da imporre non hanno avuto il bisogno di andare a evangelizzare gli altri a imporre il loro modo di gli altri hanno realizzato la loro vita e la loro società però è una notizia che dà fastidio perché dice cavolo non si trova nessun tempio nessun ritenuto archeologico che provi che il re Davide è esistito che è in dubbio l'esistenza storica di Re Salamone ma non esiste neanche il punto di conseguenza se non esiste il re Davide e il Salamone le prove scientifiche sull'esistenza di Cristo sono inesistenze se lavoriamo di fantasia se lavoriamo proprio per follia possiamo inventare Mosè non è mai esistito tutto quello che è stato scritto nella Bibbia prima del 600 non è mai esistito sai c'è una notizia che è curiosa che comunque va presa con le molle noi dicevamo che il monotismo è una malattia sì ed effettivamente hanno fatto un recente studio una ricerca controversa va bene discutibile però che darebbe un aggancio anche a elementi storici da documenti storici a racconti di chi scriveva all'epoca che dicevano che appunto anche all'interno delle prove le sue mitiche erano molto molto presente una predisposizione alla peste una scoperta una pubblicazione scientifica fatta sul giornale delle scienze sociali della Università di Cambridge tira fuori una notizia che dice gli antropologi hanno messo in relazione la tendenza del genio dell'Ibrea Schenaziti con la loro predisposizione ad una serie di malattie genetiche del sistema neurologico definite l'effetto collaterale sfortunato dei geni che favoriscono l'intelligenza secondo gli studiosi queste patologie favorebbero crescita e interconnessione delle cellule cerebrali questa è una notizia riportata dal Corriere solo le 24 ore del 20 luglio come vedete si sta emergendo in maniera sempre più concreta che l'isolamento che il sentirsi estranei alla realtà in cui si vive in cui sentirsi diversi in cui sentirsi superiori la volontà di non conoscere gli altri ha come una tendenza a dare delle malattie neurologiche di conseguenza noi sappiamo che le popolazioni monoteistiche hanno sempre il bisogno di separarsi dalle altre di ritenersi superiori non parlo di mescolarsi ma neanche di conoscerle e hanno sempre il bisogno di ritenere gli altri dei nemici se popoli antichi che non avevano i predicatori missionari ammettono che sono esistite delle alterazioni neurologiche in questi popoli proprio per il fatto dell'isolamento significa che forse il monoteismo è veramente una forma di malattia di malattia della vita e noi stiamo seguendo dato che non esiste la prova storica non mai esisterà che un Gesù Cristo è esistito come i suoi compagni stiamo seguendo soltanto le qualcuno le chiama allucinazioni le follie le perversioni le malattie mentali di pochi elementi che hanno addomesticato un grece e non per niente hanno scelto il grece proprio per portare questo modello comportamentale anche agli altri popoli per so ricordatevi sempre che forse sarebbe più giusto ricordare Gesù Cristo non tanto come un dio o come un profeta o come un messia ma forse come una forma di virus di malattia che ha contagiato il mondo e logicamente nella nostra scienza è progredita con le medicine ma man mano che la scienza andava curando le malattie è scesa la fede nella religione cristiana in tutte le regioni monoteistiche e allora di conseguenza sarebbe da pensare che forse se cominciassimo non solo a curare l'aspetto fisico ma cominciassimo a curare forse anche un po' l'aspetto psicologico l'aspetto psichiatrico l'aspetto neurologico di quello che porta alla religione cristiana forse il mondo ne guadagnerebbe di molto perciò pensate al monoteismo non come una fede non come una religione ma come una malattia una malattia morbosa pericolosa perché è contagiosa si diffonde facilmente è una forma virale molto forte e pensate appunto che il monoteismo ogni monoteismo è sempre un attacco alla vita perché c'è questo bisogno intrinseco in ogni monoteismo di attaccare sempre la personalità la psiche l'intelletto delle persone forse deriva dal condizionamento che questo virus ha provocato nelle menti di poche persone sfortunate bene non so se avevi letta la notizia no no non l'avevo letta però non ho dubbi che ci sia una degenerazione cerebrale ma era già stata era si beh questa qua è stata trovata la degenerazione quando c'è stato a Arkenaton no che in realtà Arkenaton era altro che la guerra di una di una visione divina rispetto ad altre visioni divine però già c'era stata era stata vista insomma c'era una malattia degenerativa del cervello ma tutto quello si qualcuno parlava della sindrome di Marfan tutte quelle che sono tutte quelle che sono le imposizioni del monoteismo quello che è la manipolazione mentale che i cattolici fanno sui bambini non è che non si traduca in variazione della struttura neuronale della struttura sinapsica viene a uccidere proprio la capacità dell'uomo di affrontare la vita per cui viene a provocare delle vere e proprie variazioni nella struttura neuronale cioè non è che la manipolazione mentale dei cattolici passi non sia fisica è una manipolazione mentale ma si traduce nel fisico perché si innesta nella fisicità cioè ci sono delle persone che per loro credere in Dio è una cosa naturale per cui perché diventi un'idea un'idea talmente così folle di credere in un Dio creatore perché si trasformi in un'idea naturale vuol dire che è entrata nel profondo del cervello vuol dire che ha costruito delle strutture neuronali che sono molto fissi e per avere delle strutture neuronali molto fisse rispetto a un'idea del genere significa che c'è una degenerazione avere proprio la malattia uno più uno fa due dal punto di vista della pura logica cioè non è bisogno di essere un neurologo per sapere queste cose insomma sì ma che la neurologia cominci a comprendere questo e che emerga e che cominci a essere studiata valutata è significativo insomma in stragonaria sapevamo che le azioni entrano nelle persone e variano la struttura delle persone nel loro modo di guardare il mondo e di pensare il mondo questo lo si è sempre saputo ma perché questo avvenisse quali erano i meccanismi questa stragonaria non lo sapeva cioè questo sta alla scienza a dirlo perché o per come noi in stragonaria ci basta sapere che le cose funzionino qual è la magia e qual è la magia nera la magia nera è l'arte di distruggere la capacità degli uomini di affrontare la loro vita con i propri mezzi e con le proprie forze la magia nera è l'arte della sottomissione delle persone questo è un dato di fatto bene voi chiediamo il via delle telefonate 049-700-700 e 049-700-838 se qualcuno vuole intanto beviamo un attimino pronto? ciao 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 bene bene vedi che siamo ancora vivi è caldo beh lavorare in fonderia costo caldo ti assicuro che è caldo niente qua Repubblica Ratzinger e la società senza Dio ecco le chiese storiche stanno morendo sì non so dove esserci oggi sul giornale ho visto la notizia questa Repubblica dopo vedere il casettino la Madonna che si muove mi sono rifiutato mi sono rifiutato di ritagliarla quella centinaia di fedeli dopo aver atteso per ora l'apertura della chiesa di San Pietro e Cera sono entrati ieri sera per vedere la Madonna che si muoveva eh sì scolati alla folla agenti della polizia e carabinieri che stavano assicurando il servizio d'ordine pellegrini ammalati bambini sai che gli asti che esprimono dubbi eh è solita roba sì sì ma sai fa tutto fa comodo no? e dopo che se fa cultura che se perché la scienza fa paura ancora che se Galileo che se dove è pagina appunto che se Darwin dove è pagina l'esene insomma su su il dibattito sugli abusi dello scientismo eh sì la Befana di Harry Potter insomma che esistico eh dopo trovare un bel libro di Ellen Merzola non so se lo stupore infantile sì lo conosci? no bel libro no l'autore sì il libro questo comunque parla di Simbui Karl Kereni leggi Butas parla dell'Upanisat quella della luce sì l'interrogazione segue il re che fa la domanda il sapiente che dice dalla brada rignacca Upanishad sì vorrei discorre come sapiente e distrae nel più semplice dei modi la dottrina della luce qual è la luce che muove l'uomo domanda e il saggio risponde prima il sole e quando esso manchi la luna e quando esso manchi il fuoco ma senza nessuno di questi lumi esteriori da che cosa sarà mosso l'uomo da un discorso che gli dia luce e quando non risuoni neanche un discorso l'uomo allora si reggerà nel buio e nel silenzio nel c'è il suo semplice esserti la luce coinvolta nei soffi che lo reggono emananti del cuore vera fonte di ogni luce luce nera questo è un passaggio insomma si si di un Upanishad mi ricordo parla di tutto parla di Dioniso tutti i miti insomma lo trova un po' come si dice Jung Plutarco c'è vieno tre insomma le mie zolle insomma più o meno che ha sempre questi miti c'è un ottimo libraio vedo moderni sì ma è zolla ho conosco ho letto l'androgeno zolla zolla è uscita negli anni 70-80 era una bella rivista che pubblica tutti quanti gli studi migliori nel campo antropologico e culturale io ho preso di zolla i mistici d'occidente non ho zolla 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 e l'emir zolla sì non ho zolla è sempre un suo libro con i mistici d'occidente ma hanno scritto ha scritto moltissimo comunque come autore poi ha curato anche testi sul sciamanesimo un'altra cosa ha scritto anche i mistici d'occidente sì sono due volumi no veramente i miei erano sette ma io ho preso le decisioni della Burk quelli che costavano poco voi prendi la camina ma che costava massa io ero due della Delti a Rossi però costava massa 60 euro no io li ho presi ancora 15 anni fa 16 anni fa erano in offerta speciale quando c'erano il 50% della Burk penso che adesso non si trovino neanche più no sto qua perché se tutto c'è non parla del politismo e che c'è anche il politismo sì sì praticamente lo stupore infantile è una metafora come il titolo insomma tutti insomma questo è da vedere quasi diciamo appare con Ilma con il Senex e il Puer esatto che se è Walter Otto che se è tutti dentro Jung Ilma ma da attorno di tutti gli autori che lui conosceva da attorno la conoscenza religiosa aveva pubblicato anche moltissimi testi che avevano a che fare proprio con studi specifici di suddivinità seguo Dionigi insomma ho preso ho visto lo subito a scaffare nel tuo lavoro è di più è di zero devo devo chiedere devo chiedere il tuo libraio di più percentuale bene ciao Ivano ciao 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 Ivano dato che sono alcuni personaggi poco conosciuti nel mondo dei più diciamo che in campo universitario intellettuale hanno fatto dei grandi informazioni non è che fosse poco conosciuto il Zorro si ha avuto in certi momenti un certo richiamo pubblico scusa mi volevo sapere una roba che volevo mai sento dire che fine che ha fatto a morte a morte della suora cosa di tre pastorei la morte della suora ah si a Lucia che non segasse tu niente neanche i giornali eh va bene sto testamento che 50 anni che aspetto guarda che guarda che il tasso il tasso segreto l'hanno già rivelato da mossa ah non vuoi morire ho detto che si è sentito no ma lo cosa ha detto lo cosa ha detto lo cosa ha detto era una buffa e adesso l'hanno nascosto no era una presa in giro eh ma che era era una visione della fine del mondo cioè in pratica secondo le sue visioni i comunisti dovevano arrivare vincere e ammazzare tutti io ho visto da 15 da 80 anni mi metto e poi il cuore eh si e hanno scritto anche tanti libri e hanno venduto anche tanti libri e quanti miracoli si ma nianca nianca i te giornali non avevi niente ormai niente niente proprio è una truffa chiaramente è stata nascosta finché hanno potuto era un segreto ma tu di papa lo savia qualche vescovo lo savia era un segreto adesso lo sanno tutti era una buffa era una cosa in giro non gli era scritto niente non gli era testa si no no ma lo aveva tirato fuori si tanto si trattava sempre di guerre per me si e c'era praticamente la sua visione il terzo segreto era che il comunistico parla a tutti quanti e che era il papa che camminava in mezzo ai cadaveri questo era la visione solo che ciò non è avvenuto e voi tira e ha detto sono io ferito nell'attentato che ho subito e no e si è finito il discorso è stato qui o no? si tutto quanto era il discorso era una truffa l'hanno parata come hanno potuto però era una truffa sento la guerra del golfo cosa che ha fatto? cosa che ha fatto? la prima volta che ho visto la guerra del golfo appena finia eh che se io con un conduttore che faceva TG eh che seguia dopo se andava in pensione seguia sempre questa mamma e ora avevo visto era il che parlava che diceva guarda che ha detto che è che aveva intuì questa guerra ah si ha detto che aveva intuì questa guerra ha detto era mica aveva un'ignore da parte e ho detto ma perché ho detto ho detto prima perché ho detto se ho detto prima è che dopo per caso non si avverava allora addio madonna dell'Urdes e siccome che qui è una miniera d'oro ma guarda non si poteva dirlo insomma ha detto guarda io intuìo che era questa guerra solo che mi ha gasta a parlare perché se dopo non arriva va so tutti i segreti proprio addio dio miniera d'oro dell'Urdes sì ma solo il turismo religioso pensa quanti miliardi nuove ma il mio morto finì ho neanche un tigione né dire niente niente zero proprio ma tanto la faranno santa che ti importa eh santa sei un paio di anni dai sì un paio di anni poi la faranno santa mi è curioso non so avere queste robe qua non lo seguio non lo seguio dove erano voi ma state ma questa qua perché avevo dice adesso poi a dirlo prima che se era vero tutti comunque guarda ci sono milioni di persone che hanno delle intuizioni che hanno delle visioni di cose che accadranno perché fa parte della nostra vita fa parte del nostro esso c'è niente di miracoloso in ciò beh ma 80 anni che sto segreto fuori come beh quella è stata la presa in giro la più grande presa in giro che abbia fatto la chiesa cattolica negli ultimi secoli e i tre che altri due pasterei due santi sì santi però anche là ieri si trattava di guerra ma sì ma quindi il termine di guerra tu non mi sa come si tratta di guerra siccome che ieri si sa qualche mese prima che l'altra giorno arriva e ora io li scrivo e ora indovina perché io sa prima sai cosa era successo erano tre bambini no e tre bambini sì sì dai ti dico parola ciao in parola si tratta di tre bambini praticamente analfabeti montati dal parroco in una situazione dove c'era stata la rivoluzione messicana la rivoluzione russa qua e là i socialisti stavano un po' prendendo piede e naturalmente questo parroco nelle sue prediche inveiva questo incontro questi rossi atei che vogliono distruggere la chiesa che massacrano la chiesa che fanno questo che fanno staltro e hanno montato la testa a questi ragazzini quando questi ragazzini sono andati un po' in paranoia chiamavano così per non usare altri termini anche più pesantini si sono immaginati tutte queste catastrofi che il parroco gli ha raccontato per cui hanno praticamente trasformato questo in allucinazioni in visioni è tutto là questo è il meccanismo un po' che si è innestato e naturalmente la chiesa cattolica ci ha marciato sopra questo è il meccanismo si 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 no ma da trono sai nel senso che noi non abbiamo memoria storica di cosa sono le predicazioni appunto cristiane ma quello di creare paura nelle persone terrore degli eventi apocalittici appartiene tutta la storia del cristianesimo a ogni comportamento di ogni religione insomma io mi ricordo quando ero piccolo una delle ultime prediche che ho ascoltato mi sono dispiaciuto che non si siano avverrate che è un parroco allarmato che diceva c'è qualcuno che in Italia dice che bisogna impiccare tutti quanti i sacerdoti io non penso che in Italia ci siano cose sufficienti per impicarli tutti io sarei stato ben contento che si fosse verificata nel suo spavento però provate a pensare su persone più sensibili il fatto che questo parroco dice ci vogliono impiccare tutti e si parla appunto degli anni 70 pensate cosa significava nel 1900 e qualcosa o nel 1800 queste persone poi che non avevano ma neanche la televisione cioè nel senso che nei giornali analfabeti dicono in giro le pecore cioè vivevano come vivevano con l'unica informazione data dal parroco e come dipingeva le cose del parroco insomma chiaramente è stata un'esaltazione un'esaltazione mentale ma un'esaltazione mentale che ha preso parecchie persone cioè è facile in situazioni del genere che queste cose succedano insomma naturalmente cosa succede riuscire a dire che man mano che la cultura prosegue man mano che passano una maggiore cultura non è che non ci siano altre forme di disagio però queste forme spariscono perché i fenomeni i dati gli input che ti arrivano dal mondo sono maggiori per cui hai più possibilità di confronto per cui chiaramente queste cose qua vanno un po' sparendo insomma io mi ricordo negli anni 50 c'era Madonna Pellegrina che appariva un po' in tutta Italia c'erano 50.000 apparizioni in tutta Italia adesso va bene abbiamo questa una ogni tanto abbiamo l'operazione Civitavecchia insomma abbiamo una serie di cosette che possono succedere però tutto sommato oggi come oggi abbiamo abbiamo un livello molto limitato insomma di questo tipo di cose che possono succedere si cercano sempre appunto c'è quel discorso dell'insegnamento religioso anche negli asili in altre strutture di prestare in mostro una situazione sempre tragica ma è la volontà loro perché in realtà quello che loro vanno a dire che è il pericolo è il loro desiderio è la loro anima è la loro speranza di poter fare la guerra agli altri a quelli che non accettano nessuna sottomissione al principio cristiano a quelli che dicono sì che Gesù Cristo è un mostro però loro dicono queste persone vorrebbero annientarle vorrebbero portare i roghi potrebbero fare una guerra santa lo spirito dei monoteisti è sempre quello quello di di costare gli altri peccatori i peccatori che devono essere redenti visto che ormai siamo verso la fine Francesco faccio un'ultima battuta niente c'è stato un articolo di Umberto Eco sull'Espresso che veniva a dire parlare di assolutismo relativismo e in altra cosa che non mi ricordo più fra le altre cose dicendo che Voitila aveva si accettato il discorso dell'evoluzione darwiniana purché ad ogni passaggio ci fosse stata la mano di Dio in realtà fu solo un trucco fatto da Voitila uno squallido e sporco trucco infatti salta fuori il cardinale di Vienna che dice no non è vero noi non accettiamo assolutamente questa roba questa era una cosa perché Voitila non poteva certo affrontare la cultura occidentale e allora tre scienziati americani hanno scritto a Razzica dicendo ma allora diteci un po' ma voi a che cosa è che credete e questo è l'ultima chicca di oggi vediamo pronto? ciao a Giovanni a me pare domani ciao a trefano d'altra parte scusate ciao auguri vedete pur di stuprare i bambini iso disposti a qualsiasi porcata questa fa parte proprio della capacità intellettuale cristiana praticamente un cristiano nemmeno l'ovvio riesce a vedere nemmeno l'ovvio pensate un po' a che livelli di manipolazione mentale è sceso il cristianesimo dentro queste persone e se assolutamente sconvolgete Francesco salutiamo tutti quanti ecco io saluto tutti quanti vi ricordo domenica 4 settembre cittadella la festa dei veneti è una festa culturale ci saremo anche noi cristiani dell'area reitia di conseguenza invito gli scordatori a essere presenti sabato 24 settembre c'è il rito presso il bosco sacro e Francesco deve organizzare tutto il rito anche perché se no non si fa niente e poi vi ricordo che c'è il rito della devozio sull'altipiano di Asiago telefonate i contatti che il posto è già cioè il posto è già assegnato l'ora è già assegnata e l'ora del rito è già assegnata per cui come al solito mi raccomando tenete i contatti un'altra cosa prossima volta che ci vediamo porterò i DVD relativi al rito del sostituto d'estate e chi ha partecipato al rito del sostituto d'estate avrà il DVD pagando una modica cifra che dopo ci mettiamo d'accordo perché adesso qua quando uno dice organizzazione senza scopo di lucro mi vedo che senza scopo di lucro stanno facendo un sacco di soldi e noi facciamo tutto gratis e regaliamo tutto gratis d'altronde sai c'è il discorso che ti dicevo c'è la Commissione Europea che sta indagando sull'Urano e l'ESA proprio perché se nessuno dice le situazioni italiane sotto inchiesta ciao a tutti e a risentirci a giovedì stasera stasera continuerò con la meditazione ciao